Non sto dicendo che la corte è faziosa, non è ancora stata presa una decisione, ma la magistratura sembra essere politicizzata. Davanti alla Convention Nazionale degli Sceriffi d'America, il presidente Donald Trump ha criticato aspramente l'operato della magistratura, che in queste ore è riunita per decidere le sorti del bando sui musulmani. I giudici hanno anche sollevato dubbi sui reali poteri del presidente in un ambito così delicato come la libertà religiosa. Tuttavia, secondo il nuovo inquilino della Casa Bianca, il divieto d'ingresso per i rifugiati e per i cittadini di sette diversi paesi musulmani dovrebbe essere ripristinato da subito, perché senza questo provvedimento la sicurezza nazionale sarebbe a rischio. Un attacco frontale in pieno stile Trump, criticato anche dal suo candidato alla Corte Suprema, Neil Gorsuch, aprende una spaccatura con l'uomo che l'aveva voluto fortemente tra i giudici della magistratura. A 20 giorni dall'insediamento a Washington continuano le prove di forza per il presidente, che dopo aver incassato la conferma di Jeff Sessions, a capo del Ministero della Giustizia, con una maggioranza molto risicata, ha anche riavviato le procedure per la realizzazione del Dakota Access Pipeline, l'oleodotto che attraversa le terre dei Sioux e il lago Ohio, già bloccato da Barack Obama. Un guanto di sfida che fa presagire una nuova ondata di proteste.